Monica mi scrive Ho una pagina facebook di prodotti di cucito creativo Ho sempre venduto quanto basta per sentirmi soddisfatta Negli anni sono cresciuta e prima del covid svolgevo anche scage di cucito Poi tutto incomincio a rallentare fino a quasi a fremarsi del tutto E non riesco a capire il perché Sono demotivata Allora Monica Il fatto che comunque tu hai questa pagina facebook comunque conosciuta E le persone hanno fiducia in te Perché se sei riuscita a coinvolgere chi ti segue E addirittura portarle vicino a te per i corsi di cucito E gli scagi di cucito Secondo me è una cosa fondamentale e molto importante Il covid ha fermato un po' tante cose Tante persone ha fermato, ha bloccato un certo tipo di dinamiche Bisogna vedere se anche tu ti sei fermata Prova a pensarci Se prima del covid vendevi e se prima del covid riuscivi a organizzare corsi di cucito Scalage di cucito Cosa è cambiato? Lascia scari gli altri Cosa è cambiato in te? Perché magari quello che tu comunicavi prima lo comunicavi magari con grinta Invoiavi le persone a venire in quei scagi di cucito Riuscivi a trasmettere il valore del coproduco con entusiasmo Il problema è che magari tu sei tornato ma sei tornato anche a che è diversa Magari la motivazione che avevi prima non ce l'avevi più che per altri motivi Magari hai avuto più paura E questo senso magari di responsabilità ti ha portato ad andare sui social Ed essere magari bloccata E ripeto quando noi comunichiamo le persone percepiscono se noi ci crediamo o no in quello che facciamo Se tu comunichi tu scagi di cucito e dici Ciao ragazze Allora io ho preparato questo corso di cucito per il Natale Insomma se volete venire a me fa piacere Tu capisci che comunicare in questo modo la gente Anche se poi propone un progetto bellissimo Io ad esempio non verrei mai al tuo corso di cucito Secondo me è importantissimo capire come stiamo comunicando il nostro servizio, il nostro prodotto L'enfasi, la grinca che ci mettiamo Le strategie di vendita basate sulla scarsità Perché sono le regole del marketing che forse andavano di moda 15 anni fa Dove comprate solo 5 poste a disposizione E dopo 5 minuti nella stories dopo Un posto, cioè voi perdete un posto? No Non ci crede più nessuno Quindi utilizzare queste strategie della scarsica Se non sei un brand Fanno scancare la community Ti un esame di coscienza e parti da te Cerca di capire perché non stai più vendendo Cerca di escludere questa cosa qui della comunicazione Cerca di capire se veramente non sei te il problema Nel senso che stai comunicando un po' di malumore Ci può essere quella giornata di sconforto perché ti capita una brutta notizia Che raccomando un progetto e lo vuoi condividere sui social Quello è bello perché siamo umani E quello va fatto È un altro paio di maniche farlo tutti i giorni Escluso quello Allora probabilmente stai magari proponendo sempre la stessa cosa Cioè se tu fai stagio di cuciclo su come fare la tovaglietta americana E da 10 anni fai tovagliette americane La gente si è scufata Uno Due Non proporre quello che la gente potrebbe imparare anche da sola Io capisco che molte persone non vogliono andare Magari non vogliono imparare Crearmi un tutorial su YouTube Perché hanno bisogno di essere affiancate Punta su queste cose Dai un motivo per cui le persone dovrebbero venire da te Punca su quei bisogni Elencali Proprio fai uno studio su di che Fai uno studio sul tuo prodotto Sui quei servizi Ed elenca i bisogni La gente compra perché ha un bisogno da sfamare Ok non compra perché l'altra persona è simpatica Perché io posso essere simpaticissima Ma magari proporre qualcosa che a nessuno gliene frega di me Che io non vendo Anche se sono simpaticissima Cioè ok La gente che comprerà me nel momento in cui Io propongo qualcosa che la persona ha bisogno Ok Io vendo solo in quel momento lì Tutto il resto sono chiacchiere Quindi secondo me chi dovrebbe essere più concentrare su quello Per oggi abbiamo finito con le domande Se avete comunque domande Approfittatene Scrivetemi qui sotto nel video Scrivetemi un'e-mail privata Scrivetemi sui social Scrivete Commentate gli articoli sul blog Quindi vi consiglio di commentare o qui o sul blog E io il prima possibile vi risponderò Dandovi il mio punto di visca Ciao e alla prossima Ciao e alla prossima Ciao e alla prossima Ciao e alla prossima